Ciao a tutti amici del Cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Cancro, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di gennaio 2023. Abbiamo la carta della forza. Amici del Cancro, si parla di coraggio, si parla di una scelta da effettuare, si parla di forza morale nel vostro andare avanti nella vita. Quando c'è la carta della forza si parla anche di un'apertura del cuore. La sento molto in questo senso come un andare al proprio passo. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Intanto andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che la lettura è generale, è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Se poi non sapete come unire il messaggio di questi tre oroscopi, sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega proprio come fare. Trovate anche la mia email, sempre nella descrizione, e trovate anche il link al video del corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio, inizio febbraio. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 15 di gennaio. Le persone che si iscriveranno dopo slitteranno automaticamente nel corso dopo. Ecco, diciamo che nel video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Poi per ogni altra informazione potete sempre scrivermi un email. Iniziamo con un 4 di spade, la regina di coppe, la regina di spade, abbiamo un 3 di spade al contrario, un 9 di coppe, un 8 di spade e un re di coppe. Allora, la prima cosa che mi colpisce è che abbiamo re e regina di coppe, quindi se siete in una relazione potrebbe rappresentare le due figure la vostra relazione, ok? Partiamo dall'inizio. Allora, abbiamo un 4 di spade. Il 4 di spade è una carta che parla di guarigione fondamentalmente, è un'energia che si sta riposando, che ha bisogno di un riposo per riuscire sia da un punto di vista fisico ma anche psichico a raggiungere di nuovo un certo stato di benessere, di quiete, di pace. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Per quello che riguarda la regina di coppe potreste essere voi, potrebbe essere anche una persona vicino a voi o una nuova persona che andrete a conoscere nella prima parte di gennaio. Essendo una figura di coppe, per qualcuno può anche rappresentare una madre. c'è un sentimento comunque, o meglio, una connessione con questa carta, con quello che è tutta la sfera emotiva. Molto, molto forte e addirittura è talmente forte questa connessione che alle volte ci si lascia un po' guidare da quello che è lo stato emotivo. La regina di coppe normalmente è immersa nel proprio lato emotivo. E sento che ci sarebbe proprio bisogno di lavorare, se vogliamo, il lato maschile, il lato young. Di fatto abbiamo questa regina di spade e quando c'è una regina di spade si parla di organizzare, di pianificare, di fare dei progetti, di porsi degli obiettivi. È un po' come se fossero le due faccia della stessa medaglia, se per voi rappresentano la vostra energia. Per qualcun altro invece potrebbero rappresentare veramente due persone, due figure che in questo momento sono intorno a voi. Una un po' più materna, direi, e una un po' più logica, un po' più fredda, anche se vogliamo. La cosa interessante è che qui abbiamo un tre di spade e iniziamo con un quattro di spade. Qui è successo qualche cosa per cui voi avete ancora questa ferita aperta e che state tentando di curare. Qui c'è la carta della forza. Può essere che qualcuno sia in una fase proprio di riequilibrio tra il divino maschile e il divino femminile in questa prima fase di gennaio, dove appunto si sta cercando di risvegliare il divino femminile attraverso la forza di volontà. Quindi quando il divino femminile, diciamo, è in ombra, è in caduta, se vogliamo. C'è questa incapacità di gestire le emozioni, c'è questa sensazione di impotenza, di non riuscire ad uscire da questa situazione, si tende a procrastinare molto. Quindi la sento un po' così, come se fosse un invito a lavorare sulla vostra forza di volontà e sulla vostra forza morale. Vi dirò che poi abbiamo un bellissimo nove di coppe, poi c'è un otto di spade e il re di coppe. Qui si arriva in una fase dove ci si rende conto di quanto in realtà ci si possa sentire appagati della realtà che si sta vivendo e di tutto quello che è il percorso che avete fatto. Lotto di spade in realtà è una carta che parla di autoboycottaggio. Prima ho parlato appunto del divino femminile in ombra ed è proprio questo, l'autoboycottaggio, il continuo senso di colpo, il continuo sentirsi una vittima. Ed è quello che fa procrastinare il momento dell'attività, dell'azione. Ok, faccio qualcosa per cambiare, forza di volontà. Mi metto in testa che devo fare un programma e lo rispetto e non dormo troppo sugli allori, perché comunque il quattro di spade è una carta di staticità, eh ragazzi. Vi dirò che alla fine della lettura abbiamo quest'ora di coppe che potrebbe rappresentare anche un terapeuta per qualcuno o una figura, magari un padre, magari semplicemente appunto una figura di riferimento vicino a voi che potrebbe potrebbe venirvi in aiuto in questo tipo di processo di presa di consapevolezza. Ci sono diverse figure comunque in questa lettura, quindi potrebbe far riferimento a una famiglia in senso di coppie e figli e a una figura laterale, quindi a una zia mi dicono. Scrivetemi nei commenti come vi risuona. Allora, andiamo a vedere carta per carta di dare qualche sfumatura in più con i mini tarocchi. Per chi fosse interessato nell'oroscopo annuale, vi comunico che sono già tutti online e li trovate nelle playlist del canale. Sono quattro oroscopi per ogni segno zodiacale. Ok, però la rifarei perché avevo il mazzo al contrario. Dieci di spade. Dieci di spade, cinque di spade al contrario e la torre al contrario. Sì ragazzi, tre di spade, dieci di spade, quattro di spade, cinque di spade, tre, quattro e cinque tra l'altro di spade e una bella torre che abbiamo qui. Allora, qui potenzialmente può essere stato un evento. Direi alquanto toccante per voi, per qualcuno anche abbastanza, insomma, importante che in qualche modo ha destrutturato le vostre sicurezze. Io credo che qui la ferita sia ancora aperta, che ci sia qualcuno che debba trovare la forza di andare avanti. Può anche essere solo un litigio, eh ragazzi, che per voi è stato particolarmente, come vi posso dire, ha disequilibrato molto la vostra stabilità emotiva. Non necessariamente deve essere un evento fisico, anche se c'è comunque la torre. Andiamo a vedere la regina di coppia, perché qui ho come la sensazione che, come vi posso dire, mi parlano di ospiti, no? E quindi sto cercando di capire se qualcuno è stato cacciato di casa o ha perso casa in questo momento è ospite, oppure se avete bisogno di, in un certo senso, curare questa vostra idea che voi avete della situazione che state vivendo, come se non vi sentiste a casa vostra. Abbiamo la carta del sole e l'otto di spade per la regina di coppia. Sì, si può trattare di una questione tra madre e figli, ragazzi, eh, ma può anche essere un amico, un amico, ripeto, un parente, diciamo, laterale. C'è qualcosa, probabilmente qui, legato ai figli, che vi fa sentire legati, che vi fa sentire in una posizione come se aveste le braccia legate, letteralmente. La cosa positiva del lotto di spade è che in realtà, avendo la benda, non vedete chiaro, quindi in realtà la situazione non è così brutta come la vedete. Andiamo a vedere la regina di spade, perché secondo me questa è solo un consiglio per riuscire a gestire meglio questo tipo di disequilibrio, di insicurezza, mi viene da dire, emotiva. Ed è un po' come se vi dicessero, non ti preoccupare, perché comunque vai verso l'abbondanza, il punto è che qui devi fare dei piani, devi organizzare le cose forse un po' meglio. E di fatti abbiamo quattro di coppe e la temperanza. È una questione di ricalibrare probabilmente certe dinamiche. Vi faccio presente che la temperanza è una carta di guarigione come il quattro di spade. Però ecco, è più un lavoro che deve arrivare da voi, siete voi che dovete attivare il vostro lato maschile, la vostra forza di volontà, il fare i progetti, il rispettarvi, perché quando si fa un progetto, quando si fa più che un progetto direi uno schema di avanzamento, qualsiasi sia il settore, bisogna poi riuscire a rispettare questo schema che vi siete fatti. E questo vuole un po' dire rispettare voi stessi, perché siete voi che avete dato quelle regole. Qui c'è una sorta di... Sì, bisogna rimettere un po' in equilibrio questi due lati, io sento. O se fossero persone che influiscono comunque nella vostra vita, che sono intorno a voi nella vostra vita, è un po' come se doveste... perché la regina di coppe è... le coppe sono il seme più femminile che c'è e le spade sono il seme più maschile che c'è. Quindi poi gli altri due sono, diciamo, un po' mischiati. Però è proprio il divino femminile e il divino maschile come donna, può anche essere una figura di riferimento. Andiamo avanti, vediamo il tre di spade. Dieci di coppe. E' re di spade. Sì, qui ha a che fare, ripeto, con qualche situazione familiare, con il creare la propria famiglia. Può anche essere che qui si sia chiusa una relazione, ragazzi, che ora siate nella necessità, nonostante stiate, diciamo, vivendo, trasmutando la sofferenza e il dolore, ma abbiate bisogno di rifocalizzarvi e vi dicano un po' di cercare di fare dei progetti, perché la ferita è ancora aperta. E' come se aveste ancora questo desiderio di creare una famiglia o di questa persona, perché qui c'è un re di spade. Andiamo a vedere il nove di coppe. Due di coppe al contrario. Vi faccio presente che il nove di coppe è una carta di forte appagamento, ok? Nove di pentacoli invece, che non è qui, però è sempre un nove, parla di indipendenza e di una persona che è singola. E qui abbiamo un due di coppe al contrario. Forza al contrario e cavaliere di spade al contrario. Io credo che molte persone, in un certo senso, si renderanno conto che stanno bene così come sono. Sono in questa fase di guarigione. Hanno bisogno di prendersi un momento. Quindi se questa persona è una persona nuova che si presenta e magari ha figli. Diciamo che ci pensate un attimo. Andiamo a vedere l'otto di spade. Wow. Asso di denari e due di denari al contrario. Sì, si inizia a intravedere qualche cosa. Tenete presente che l'asso di denari è un dono. È un dono che arriva dall'alto. Può anche essere un dono psichico per qualcuno. È un nuovo tipo di cammino. Ma quello che sento di dirvi con queste carte è fate attenzione al tipo di energia che avete quando è iniziato questo cammino. Perché il due di pentacoli è una carta di cicli karmici che si ripetono. Quindi occhio, quando entrate nel prossimo ciclo, a non farlo con un tipo di mentalità, diciamo, da senso di colpa, da non sentirsi all'altezza, di essere la vittima degli avvenimenti della vita o cose di questo genere. Qui c'è questa figura. Andiamo a vedere anche il re di coppe. Un fante di bastoni al contrario. E un sei di bastoni al contrario. Sì, ho la sensazione che qui avete bisogno di prendere coscienza del fatto del tipo di relazioni in cui vi infilate, ok? E' interessante perché sono carte contrastanti. Il re di coppe è una carta che esprime la massima maturità emotiva, è il personaggio che esprime l'essere arrivato ad un equilibrio emotivo, l'essere stabili e non perdere la propria serenità nonostante gli avvenimenti esterni. mentre il fante di bastoni soprattutto quando è girato al contrario parla di una persona egoista, di una persona molto focalizzata su se stesso, addirittura narcisista. E con il sei di bastoni al contrario c'è una sorta di amaro in bocca, una cosa di questo genere. datemi ancora una carta per il fante di bastoni che non mi è chiaro. Ragazzi, l'impressione è che faccia riferimento a un padre che vi abbia un po' condizionato. Anche qui avevo la figura della madre, c'è qualche tipo di condizionamento a livello familiare, anche qui lo sento. Cioè, probabilmente avete imparato qualche cosa quando eravate piccoli, qualche tipo di idea di gestione familiare che in questo momento non vi serve più. Qui, perché questa è una carta di codipendenza quando è girata al contrario, quando è vicino al fante di bastoni, c'è il narcisismo e la codipendenza, quindi occhio, in realtà non le vedo qui, ma sì vedo il disequilibrio, sì vedo la rottura dell'ego, la caduta dell'ego, sì vedo ancora la ferita aperta, quindi per certi versi mi viene da dire che o riuscirete a fare un lavoro, a togliervi questa benda con questo osso di denari, con questo dono che arriverà e quindi riuscirete a rendervi conto di questo tipo di dinamiche e raggiungerete la maturità emotiva, perlomeno la comprensione, e la compassione per la persona o per la situazione che è successa qua all'inizio o più semplicemente vi renderete conto che una persona che voi pensavate essere un re di coppe in realtà è una persona che ha creato una dinamica che poi ha portato o porterebbe al fallimento. Vi vedo in fase di riequilibrio, di rigenerazione, di guarigione e qui nella seconda settimana di gennaio è un po' come il ok adesso ho trovato uno pseudo equilibrio, un semi appagamento, vado bene così, non ho voglia di scendere a compromessi con nessuno e nel momento in cui arriva questa persona comincia a rischiararsi la mente è un po' come se cominciaste a vedere le dinamiche che prima qui non erano chiare perché qui abbiamo l'asso di denari e il 2 si esce dagli alti e bassi con il 2 di denari al contrario però sì che si inizia un nuovo ciclo fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti andiamo a vedere ancora un oracolo un paio di oracoli per vedere quale altro messaggio vi vogliono dare wow qualcuno espresserà il suo amore messaggi d'amore o qualcuno che sta pensando di farvi sapere il proprio amore ragazzi il re di coppe molte volte fa riferimento al terapeuta a una persona che appunto ha fatto già un lavoro su di sé ed è in grado di condurre qualcun altro verso una stabilità emotiva sento che per un gruppo non molto grosso in realtà c'è la possibilità di incontrare direi per caso come un dono questo terapeuta e vi potrà aiutare a capire quali sono state le dinamiche di narcisismo codipendenza piuttosto che le ferite i traumi che non avete lavorato che in qualche modo vi fanno sentire vi fanno sì avere questa sensazione di fallimento perché quando arrivano per me l'amore non è solo l'amore di tipo romantico ok quindi potrebbe anche essere un amico una persona lontana che in qualche modo vi illumina andiamo a vedere con gli altri oracoli come se questa persona contribuisse a questa temperanza del quattro di spade ecco conversazioni sincere esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti e poi abbiamo nuovo amore wow una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti ragazzi e perché no potrebbe essere che arrivi veramente un re di coppe e che vi faccia guarire dalle dinamiche un po' tossiche che avete vissuto fino adesso anche diciamo che voi avete iniziato un percorso avete state già iniziando ad alzare le vostre vibrazioni di conseguenza le persone che arrivano poi da qui in avanti sono con vibrazioni migliori maggiori insomma cari amici del cancro questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata d'ispirazione se vi è piaciuto il lavoro che insomma se vi sta piacendo il lavoro che faccio potete sempre supportare il canale con un like con un'iscrizione con una condivisione con un commento oggi mi impappino ogni tipo di supporto per me è molto molto importante io vi auguro un inizio gennaio e un inizio d'anno splendidi vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao